Per essere calma ma oggi facciamo una cosa che ti piace tanto tanto tanto, sai benissimo che cos'è vero? Lo so già, lo so già Allora, dobbiamo provare a pestare malamente Jason perché io mi sono reso conto che se ce la giochiamo bene Secondo me siamo in grado di costantemente scappare di casa in casa in casa Ogni volta dargli qualche colpo per stordirlo e continuare a scappare e sopravvivere per 20 minuti Se ci riusciamo diventiamo proprio in assoluto il re del gioco Ah quello si Non so se è fattibile però prepariamo dei perks adatti e vediamo se ci riusciamo E ragazzi come va? Io sono Feriniki E sono Stef che stai giochiamo venerdì 13 E oggi siamo qui con l'episodio più bello di venerdì 13 perché picchieremo Jason Io Stef ti dico già che secondo me è molto difficile e non so se potremo riuscire a vincere in questo modo Però sono felice di provarti Allora dobbiamo utilizzare una tecnica che noi utilizziamo molto poco ovvero la stance da combattimento Che ti permette di fare che cosa? Ti permette di fare uno sbalzo all'indietro In questo modo Di schivare Quando Jason ti vuole acchiappare qua si parla quando siamo in campo aperto quindi quando non siamo dentro una casa Quando cerca di acchiapparti tu fai un balzo all'indietro scrivi la sua acchiappata e poi gli dai un bel colpo e lo stordisci Comunque come perks e come personaggio io ho pensato di utilizzare lui che ha la forza a 10 In questo modo teoricamente quando gli do un colpo lo dovrei stordire sempre Come invece perks ho messo i petardi perché ci permettono una volta di scappare Uno spray per curarmi perché credo che ce ne sarà bisogno E una mazza da baseball per partire Eh ma i due sono bellissimi Mi non sono così belli Io ho messo i petardi come te la mappa perché poi non avevo cose belle come le cure Una dei due dovevo prenderla E' il fatto che praticamente quando tu sei vicino a me ti aumento i danni che fai da micchia però Quindi con una mazza va benissimo Ci sta Quindi vediamo un po' Ci siamo Allora ti posso già dire vicino a dove sono? Sono vicino all'albergo Ok perfetto Quindi se ci riesci avvicinati a me perché io non ho una mappa quindi non posso sapere dove sei Sì sì arrivo 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 E io inizio a cercare qualcosa per armarmi Allora gli obiettivi sono un coltellino svizzero così se qualcosa va storto mi posso salvare Dopodiché un bel fucile farebbe comodo al posto di una mazza da baseball Sapete com'è direi che non sarebbe male per combattere Comunque la stanza di cui parlavo si fa con C E come vedete diventa così Quando lui quando Jason prova a colpirmi Se io faccio tasto destro posso parare i suoi colpi e non mi fanno danno Mentre se cerca di caparmi faccio così e posso schivare la presa Io mi ci dovrò allenare Stefano Bisogna avere un sangue freddo incredibile Non so fare te lo dico Ma io adesso faccio così tutto quello tecnico eccetera eccetera Arriva Jason mi sale il panico Esatto esatto Mi acchiappa il primo colpo e muoio Sono arrivato Stef sono entrato in casa e neanche te ne sei accorto Non ho sentito un rumore però non pensavo così già tu Sono entrata la finestra Ciao Fede Allora dobbiamo trovare qualcosa di utile Quindi mettiti a controllare tutto quello che vedi Che c'è? C'è la musichetta di Jason nelle vicinanze Io non lo vedo Però potrebbe essere qui in zona Bisogna fare attenzione Stef Perché sennò qua moriamo all'inizio Ho una mazza da baseball freddo Stai tranquilla Allora ok ho trovato la pistola del flair Che è già un pochettino meglio di una mazza Stef è dietro di te Stai scherzando? Chiudo la porta L'ho visto la porta Fede mi ha preso Liberami Ah scusa dovevi Veloce Mi son chiusa Stef Non si poteva riaprire la porta una volta che la chiudi Allora Allora Sì però ascoltami Stef Cioè io ti ho detto c'è la musichetta Bene Su Youtube Su Youtube le musichette non si possono utilizzare Quindi io non ho le musichette Quindi non ci posso fare nulla Io queste musichette non le sento Ok? Ma ti ho avvisato Dovevi proteggermi Ma ti ho avvisato e tu Mettiamo la C Ci mettiamo a schivare tutto E stavo prendendo il loot Per Porca miseria guarda Dovevi difendermi Perché siamo così ridicoli nei video No ma perché Dovemmo essere quelli bravi Che riescono a fare tutto Perché non ci diciamo Ci sono sette persone Siamo in due Vai a prendere gli altri cinque ogni tanto Viene sempre a prendere me Non so È una regola Viene sempre a prendere me Riproviamo questo game Nessuno l'ha visto State tranquilli Dimenticate tutto ciò Era il riscaldamento Era il riscaldamento Adesso si parte Allora lo vedi? Lo vedi? Sta arrivando qui in questa zona Ehm Più o meno Dov'è? Ehm Dietro di noi Lo vedi? Sì 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 Eh ma mi hai preso Cioè non era dietro Ehm Dai ma che cavolo Fa schifo Non fa Mi sta arrabbiando Mi sta arrabbiando tantissimo Te lo dico Perché non va bene Che adesso ti prende Non ti puoi liberare Cioè tu gli hai dato un colpo Perché non si è bloccato? Perché da quello che ho capito Se colpisco a te Invece che No hai colpito a lui Hai colpito a lui Anche secondo me Torno arrivo Arrivo Adesso tutto cambia È tutto Sì sì Sto arrivando Col mio fucile Goku si è diventata adesso Super Saiyan Adesso mi diventano i capelli biondi E l'ho distrutto Credo che qualcuno abbia appena sparato a Jason Fammi vedere Sì 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 Confermo 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 Ok Allora tu sei sempre nella zona di Jason? Eh sì lo sto osservando Arriva Arriva Un tizio aveva il coltellino svizzero Bravo questo Space Gli sta facendo perdere un sacco di tempo Qualcuno ha chiamato la polizia Sì esatto La tipa che ha aggiustato il telefono Vedi ti dicevo Ferre qui c'è uno spray Vieni a prendertelo Ce l'ho già lo spray grazie Ah ok Ah no non è vero Perché ce l'avevo col personaggio Prima sono morta In effetti Arriva 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 Allora ti stavo dicendo Non so perché è partito Con 4 minuti e 20 Invece che con 5 minuti Però scappare dalla polizia Mi piace molto Ah perché esiste il perks Che ce l'ho anch'io Praticamente ti fa ridurre Il tempo di arrivo della polizia Hai ragione Quindi lei sicuramente aveva quello Ok Ok Sì ma c'è Jason qua Aspetta aspetta Io chiudo Mi chiudo a chiave Non riesco a raggiungerti Perché c'è Jason in tutte le stanze Ok L'ho stundato Me ne vado Ho dovuto sprecare i miei petardi Però l'ho appena sordito Farevi via dell'albergo Vai direttamente via Non capisco se è ancora nell'albergo Oppure no Non ho idea Non riesce a darmi informazioni Allora sto guardando la mappa Di sicuro noi dobbiamo andare Verso il basso Per scappare con la polizia Ok Il discorso è Stora a sinistra o stora a destra No è ancora fuori dall'albergo Ma questo qua Cioè rimane qua tutta la vita Ho sparato e adesso sto scappando Ok vai scappa via Scappa via Vai Ferre Vai Ferre Vai Ferre Ok dietro di noi Corri in shift Corri in shift Corri in shift Stanno andando sull'altra Hai visto? Sì no non ho visto Sto correndo il basso Smetti di correre Smetti di correre Non sprecare energia Smetti di correre Dobbiamo andare verso qua Verso dove? Verso dove sto andando Mi vedi? Quale sei? Perché non mi ricordo più Fare questo Siamo una a fianco all'altro Non panicare Non panicare Allora dobbiamo giocarci la fortuna Andiamo verso una delle due possibilità In cui compare la polizia Ok E vediamo se è lì Se non è lì Siamo più morti che vivi Però Comunque qualcosina ce l'abbiamo Tu hai qualche arma Oh Ferre da te Cavolo Cavolo Tutto bene? Sì 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 Scappo Scappo Seguimi in corsa Seguimi in corsa Stai in x Stai in x Non andare in shift In shift solo quando si teletrasporta Perché era vicinissimo a me Adesso in x Adesso in x Sì 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 Ci sono Ti sto seguendo Mi metti più ansietto di Jason Guarda Lo so Ok Ce l'abbiamo dietro Facciamo una bella passeggiata in montagna È bellissima Ce l'ha ancora con noi Ce l'ha ancora con noi Finché prende a me Non è un grosso problema Mi sto anche riposando un pochettino Ma guarda Cioè davvero Amico mio Non puoi nulla Con uno forte come me Continua a correre Ma adesso che l'ho detta La scemenza Dietro chi è? Corro Corri Shift shift Ogni volta che vedi quella cosa Shifti Sì perché non capisco Se si è spostato Ok molla E vai di nuovo in x Ok Ok No ci sono C'è qualcuno che scappa in auto Quindi lui sicuramente è stato attirato Dal rumore dell'auto E stanno andando Allora fermati mobile Control Ok Dove andiamo? Ho sbagliato strada Porca miseria E oh Non fa a guardare la mappa Allora appena siamo di nuovo pieni Guarda dove è la polizia Ma guarda dove la polizia È abbastanza vicina Esattamente dove volevo andare io Ma mi sono confuso con le direzioni Perché non ti puoi muovere guardando la mappa? Non lo so Si può fare in qualunque videogioco Non puoi fare in tutti i giochi Qua è una schifezza Però se non mi puoi cambiare Io ti ho seguito Mi sono filata di te Steph Io mi sfido Se la facciamo Non riesco più a parlare Perché mi metti anche Se arriva da chi ha pa me Coltellino svizzero è lo stunno Secondo me non ha modo di fermarci Ci siamo Cioè questa partita è più vinta che persa Allora Ci siamo Steph Ok Ok Vedi se c'è Jason Sento la polizia No non c'è Siamo vicini Non c'è Lui mi sembra che ci sia Corri Corriamo Io mi sono incastrato No come? Vai vai tu vai Tu vai tu vai Corro Corro Vai shift Guardate anche le spalle Non lo vedo Non c'è Non c'è Non c'è Si è sicuramente distratto con l'auto Ce l'abbiamo fatta Bisogna essere molto organizzati Riesci comunque a scappare Si Sono in due casette totalmente disperse A Bridge Ridge Berch Ridge Ok Ok ti vedo E io sono dall'altra parte della mappa Bene 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 Ok allora io per adesso Mi chiudo dentro questa casa E vediamo un pochettino Se trovo qualcosa di utile Per combattere In ogni caso Il Jason Fere E Jason Sacchetto Non so come ha osato Prendere la mia skin di Jason Quindi preparati Perché lo voglio umiliare No lo umilio talmente tanto Che non lo utilizzerà mai più Il macette è meglio Nella mazza da baseball Quindi me lo prendo subito Posso anche chiamare Tommy Jarvis Così magari Uno dei due No no inizia a chiamarlo Sì sì Che sai com'è Ma le che vada C'è sempre lui Di scorta Sì sì è vero 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 C'è Può comunque sempre difendere Non c'è mica Jason Che mi ha staccato la corrente Mentre chiamavo Tommy Jarvis E mi ha circondato Ma perché No no Non è successo Fere tranquilla Ok Io mi sa che provo Ad andare Però ho paura Quindi Allora io sto arrivando Se aspetti un secondo Puoi avere me come aiuto Ok I supereroi non aspettano Ma smetti la stessa Allora non iniziare a urlare E mantenere la concentrazione Sembra che non ci sia Ok Ci sono Ci sono Sono arrivata da te Ok Sono in questa casa Sono in questa casa Questa non l'ho ancora esplorata Quindi ci possono essere un sacco di cose utili Stiamo andando bene Fere Secondo me Stiamo andando bene solo perché non abbiamo ancora fronteggiato Jason Appunto Fere Stiamo andando bene Non è andare bene Questa è una vera fortuna No 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 Da me comunque è venuto a staccare la corrente Quindi comunque Si capisce che mi voleva combattere Ma ha sentito paura Capito Fere prenditi questa arnese Secondo me fa un po' di danno in più Rispetto alla tua mazza Questo che c'è qui Credo siano tutti insieme Eh sì Quindi se non riusciamo a capire dove Non è che ti possiamo aiutare Comunque Sto orlando peggio di me Sai cosa possiamo fare Andiamo nella zona dove ci sono tutti Che sicuramente Jason è là E iniziamo a combinare qualcosa Dirci Sì sì Io invece non cercherei guai Come no 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 Ma io voglio andare a picchiare Allora il nostro obiettivo è sopravvivere 20 minuti Senza nasconderci Quindi comunque stando lì spavaldi Ok questo però non vuol dire andare a pestarlo di proposito No certo che lo dobbiamo pestare Se no non ha senso questo video Non c'è un po' di azione Ma ci sarà per forza Aspetta stai zitto Sento urla Sì credo Qualcosa sta andando male qui intorno Sì sì credo che non stia andando molto bene per i nostri amici Allora Fere Il piano è un po' cambiato Sono praticamente morti tutti Ne è rimasto soltanto uno Ok Oltre noi due ovviamente Oltre noi due Il nostro obiettivo è andare all'auto che hanno preparato E scappare Scontrarci con Jason Stordirlo Scappare con l'auto E vincere Mmm è tosta Stef Lo so È tosta Allora Eh sì siamo in vivo C'è soltanto un vivo che si chiama Kirksey Ok Quindi aspetta che dico Kirksey You can win Go Go You can do this Perfetto adesso sarà Ma cosa? Lui stava pensando cosa devo fare? Cosa devo fare per finire? Tu mi stai seguendo sì Dietro di te Perché Kirksey ha notato che si è un po' avvicinato a noi Sono un po' preoccupato che non è che venga magari a farci scoprire Sì ma è normale che viene da noi l'auto e da quattro Sicuramente anche lui tenterà di scappare Lo so In ogni caso tu tieni gli occhi aperti Sì Guarda se vedi Jason Se noi iniziamo a salire in auto Jason ci fa esplodere l'auto Ok Tu esci fuori Tiri il petardo Io riaccendo l'auto Rissali in auto e scappiamo Non a correre Ormai Ormai il danno è fatto Corriamo pure noi Andiamo Andiamo E infatti è arrivato Eccolo qua Corri in questo momento E cerca di capire dove sta Ok si è preso lui la trappola al posto nostro Ok perfetto Lo vedi? Dietro di noi Sì 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 Allora Chi lo affronta? Eh tu Anzi aspetta Sei l'uomo affronta Allora aspetta in effetti andrà a prendere quello lì Sì E noi ne approfittiamo per stordirlo Esatto Ha funzionato? Ce l'ha fatta Sì 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 L'hai liberato Perfetto Allora aspetta 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 Io entro in auto Mazza la baseball Ok Fere? Ma si è buggato Ok no si è ripreso Perfetto È tornato è tornato È tornato Sì in auto Cosa? Perché io sono in auto Steph Nel frattempo ne ho approfittato Sì lo so sto cercando di distrere Jason Ma non mi guarda Ok cerca di picchiarlo Oh ha funzionato Ha funzionato Ha funzionato Scappate Dai 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 Allora io vi seguo a piedi Io vi seguo a piedi Siete trasportato davanti a voi? Eh certo sì Totalmente di fronte Ok Un furbacchione Ma vi ha rotto l'auto? Eh sì Sì sta cercando di rimettere in auto Ci dovreste aiutare Steph Eh Feri sto arrivando Ok ciao Sto arrivando sto arrivando sto arrivando Sto arrivando sto arrivando Oh mamma mia che ansia Allora teoricamente lo posso provocare un po' Vai 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 distrailo Ok sì sì funziona 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 Guarda non sa più che fare Aia Viviaco Non morire Non morire però Allora aspetta Posso parlare i suoi colpi Che sta succedendo? Ok ho parato Però mi ha rotto l'arma Ma non pensavo potesse rompermela Ma come si può rompere l'arma? Questo non l'avamo mai provato Esatto Non lo sapevo questa cosa Ok Si state trasportando tutto il tempo Dove è finito? Mi sa che c'era di nuovo con voi Può essere? Eh non lo so Allora io non ho capito che strada sta facendo sto tizio Che ecco qua Si ci ha rotto l'auto Stiamo praticamente finendo in acqua Perché sto qua non sta guidando Vabbè io esco Io esco Io esco Allora Fere Io posso anche provare a venire da te Però siamo messi male Ok ok lo sto colpendo Oh mamma mia l'ho steso Steph È svenuto proprio Bravissima Bravissima Allora per adesso non pensare più all'auto E vieni da me Vieni qua tu Fere Vieni qua Fere che fai? Eh non so Allora io sono in un momento di panico Ok Il mio personaggio è in un momento di panico Quindi non vedo la mappa Non vedo niente Sto correndo da sola Perché questo che è con me Secondo me ha qualche problema mentale Steph Io l'ho liberato Se è andato in acqua Che cavolo Fere il tipo sta venendo affogato Ah bene Te l'ho detto che se è andato in acqua Non è buono di andare in acqua Scusami Steph Lo so Però io ne ho approfittato Per riaccendere l'auto Dove sei? Ok mi aveva acchiappato Mentre riaccendevo l'auto Però io avevo un coltellino Dalla mia parte Arrivo 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 Aspetta sto tornando Sto tornando E lo so fare ma non so più che fare Allora Non panicare Non panicare Arrivo correndo Non panicare Io sono andato all'albergo Ok Occhio si è teleportato Non so dov'è Ok dove sei? Che ti schivo Ti schivo Tu lo vedi? Qualcosa tu faccio? Ti schivo? No non lo vedo Niente io Ma dove è finito? Non lo so Ancora Oh cavolo cavolo Eccolo dietro di te Dietro di te Ok lo vedo Ok Continuo a correre Ce la stiamo giocando bene Per quanto mi riguarda Allora Di solito moriamo subito Quando c'è Jason Quindi diciamo che Non è male Siamo già almeno qualche minuto Aiuto Steph Sta puntando a te Allora io ne approfitto Per riposarmi Riposati anche tu Quando arriva inizia a correre Di shift pesantemente Possiamo continuare così eh No mi sta uccidendo Steph devi venire Scappa Scappa con shift Non posso Sono troppo stanca Sono troppo stanca Sto cercando di schivare le sue mosse Ti ripetardi No 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 Steph mi servi tu E Fere ti ripetardi Mi ha ucciso No Troppo stanca Non potevo fare nulla Perché tu Quando non ce l'ha con te Devi stare in control Ok Ti devi fermare A covacciarti No non hai capito Eravamo vicini Quindi c'è vedeva Sia dove ero io Allora tu andavi Dalla parte opposta Se stavi in seconda me No non c'erava Prenditi la mia cura I miei petardi Eh li vorrei Però Aspetta 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 Io non devo panicare Perché Jason fa tanta paura Ma in realtà È facile da contrastare Guarda Lei adesso non può venire Mi approfitto Per stare in control Per riposarmi Ma sta dove sei Capito È quello sempre il problema Ok 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 Io mi sto riposando Oh però Guarda ti devo dire una cosa Lui mi ha acchiappato Solo all'ultimo All'inizio mi stava prendendo A colpi di piccone Sono riuscita a schivarlo Un sacco di volte Si consume energia Quindi fai attenzione Però ce l'ho fatta Comunque Gli ho tenuto a testa Per un bel po' Prima di morire Allora È possibile Allora aspetta 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 E vedi È questo l'unico problema Che ti può acchiappare Facendo così Questo è un problema Cioè questo Non ci puoi fare Praticamente nulla Perché ti fa scossettine Non capisci dove va E ti acchiappa Ok Sì lì dovresti avere Il coltellino Per liberarti Esatto Però non è che ne puoi avere infinite È quella la cosa difficile La cosa è muoversi in shift A zigo zago E quindi non si aspetta esattamente Dove vai E non riesci a prenderti Però se a fortuna Ti acchiappa lo stesso In ogni caso Siamo resistiti Diversi minuti Secondo me Non è andata male Sì abbastanza Stava funzionando Forse bisognerebbe essere Di più No tu dovevi andare Dalla parte opposta Di dove ero io Metterti incontro E ti riposavi Infatti non devi panicare È il mio personaggio Che panica Non io Ragazzi Sì si è giusto Lasciateci un bel like E se la prima volta Che avete visto il nostro video Potete considerare Da iscrivervi Per notervi di altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 Ciao